buongiorno vediamo oggi cosa ci dice l'oroscopo ariete giornata decisamente fortunata tentate la fortuna toro bene la prima parte della giornata ma per la maggior parte di voi dovrete sudarvi ogni cosa gemelli un incontro entusiasmante in serata cancro potrebbero esserci dei momenti di tensione e di tristezza leone fate attenzione pettegolezzi evitateli assolutamente vergine bene tutto ciò che riguarda amore e affetti bilancia vi rendrete conto che tutti gli sforzi fatti ultimamente sono andati persi scorpione ottime prospettive per la giornata di oggi contate sulle vostre uniche energie sagittario saturno e giove oggi vi faranno sentire particolarmente vivi e pieni di forza capricorno tirate fuori tutta la vostra grinta non siate timidi o timorosi acquario poca sicurezza nei rapporti con gli altri la vostra timidezza potrebbe tirarvi qualche brutto scherzo pesci avete le idee confuse e poco chiare fermatevi a riflettere questo è tutto a domani con il prossimo è stato molto più importante all'ora scopo l'apuntante dell'ora scopo l'apuntante dell'ora scopo l'apuntante dell'ora scopo l'apuntante dell'ora scopo